ragazzi io sono l'autac e benvenuti in questo nuovo video del canale in questo video iniziamo a vedere come sbloccare gratuitamente il vecchio piccone oggi revoi vol ma prima di iniziare il video come sempre vi voglio ricordare che se avete vincito la skin non puoi sbagliare la base di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video questo piccone ovvero il piccone del capitolo 1 di fornite il piccone default che con questa nuova season di fornite è stato cambiato esatto fornite ha deciso di regalare di nuovo questo piccone questo grazie all'evento di playstation 5 e xbox serie 6 che arriva su fornite per bloccare questo piccone dovrete semplicemente accedere a fornite dal 4 novembre ovvero domani fino al 15 gennaio 2020 accedendo dal 4 novembre a 15 gennaio 2020 potrete ottenere questo piccone semplicemente accedendo al gioco questo piccone è stato reinserito su fornite per festeggiare l'arrivo che xbox serie 6 e playstation 5 annunciano per fornite infatti la prossima settimana fornite sarà disponibile anche su playstation 5 e su xbox serie 6 il video d'oggi termina cosa spero se vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate mi piace e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video e rimanere sempre aggiornati a qualsiasi segno sul mondo di fornite se volete vincere skin o post battaglia più bastere iscrivervi al canale lasciare mi piace cliccare sulla campanellina per non perdervi anche se è un'ultima settimana per l'abbare ben renditi c'è l'abbiamo iscriviti al canale chat